Il mio figlio è che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire sono cose che deve sentire questo amore, l'assurdo tu, con il sorriso del tuo concezione, l'arrivata è la liquidazione, l'ha licenziato senza piedi, la ragione è più giocare, 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 Questo si è visto davanti ai cancelli, tu si chiamava i compagni alla volta, quando il padrone cancella una mossa, uno dopo l'acqua comincia a montare. Una moglie dovevi vederlo, venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare, quindi rivedendo, e loro dritti, senza voi, il poderetto facevano perito, ma dietro a loro, lassù il portone, vedeva allegro il porto padrone, lo maledetto, senza pietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.